Il bel tempo e le alte temperature degli scorsi giorni hanno lasciato spazio all'autunno, alla nebbia e alle piogge di queste ore. Freddo e umidità iniziano a farsi sentire e oggi, con una decina di giorni di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, è scattata anche a Piacenza la possibilità di accendere il riscaldamento. Le giornate calde, ennesima conferma del cambiamento climatico che sta interessando anche la nostra provincia, hanno reso meno pesante questo ritardo dovuto ai forti rincari su luce e gas. A tal proposito, da Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, arrivano dieci consigli pratici per scaldare al meglio le abitazioni, risparmiare in bolletta e salvaguardare l'ambiente abbattendo le emissioni di CO2. La corretta manutenzione degli impianti è la regola numero uno, non solo in termini di minor consumo di gas, ma anche di sicurezza e attenzione all'ambiente. Inoltre, è importante ricordare che ogni grado in più in casa rispetto al massimo dei 19 consentiti, comporta un aumento del consumo fino al 10%. Altro suggerimento importante è fare un check-up energetico del proprio appartamento, affidandosi a tecnici qualificati per la valutazione dello stato di isolamento termico di pareti e finestre e dell'efficienza degli impianti di riscaldamento. La diagnosi consente di individuare eventuali interventi di miglioramento che possono abbattere i costi anche fino al 40%. Ene ha calcolato che queste misure amministrative, se attuate dall'80% delle famiglie italiane, possono comportare un risparmio nazionale di 2,7 miliardi di metri cubi di metano e circa a 180 euro mediamente in meno all'anno in bolletta per utenza.